Ehi, dire un attimo. Cosa c'è? Ti devo parlare di una cosa. È una cosa un po' delicata perché sicuramente l'amore e il papà non te l'avrebbero mai detto. Però è giunto il momento che te lo dica. Sei stato adottato. Sì. Ti abbiamo trovato quando avevi poco più di due mesi in un cassonetto. E abbiamo deciso di portarti a casa perché comunque noi siamo una famiglia ospitale. E ci tenevano tutte a te, quindi sei nella nostra famiglia da un paio. Ma no, non devi piangere perché siamo una grande famiglia. Ora noi ti accettiamo, ecco. Io ti accetto come fratello e tutto. Se non ci credi ho qua anche l'album fotografico che testimonia che vedi che qua siamo stati in vacanza in Grecia e non ci sei. E quindi ecco, si torna tutto. Poi non siamo neanche tanto uguali. Questa cosa vuol dire tanto. Però stai tranquillo, noi ti accettiamo. Lo stesso. Ah, non dirà mamma e papà, tanto non ti diranno male. Questa cosa qua. Va bene. No, non piangere.